E' una semplice intervista per il giornale. Ho solo un paio di domande. E il signor Grey può vederla ora. E lui com'è? Educato. Intenso. Intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro. E lei? Vorrei sapere di più su di lei. Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi. La guardo. Se dice che è chiusa una porta, si apre un portone. Ma vediamo che cangello c'è fa qui su. Chi ha pagato la farina la aspetta. Speriamo beh. Mi sono fatta pure le pili per qui su. E questo com'era? Eeeh, grezzo, porco. Cambiare a cento d'ordine. Stupido. Però, mi rapa tanto. Guarda che mala ferro ha. Ma oltre lo ferro, ti piace la patata? E la madonna. Solo con lo stato di vicino mi sono grifato. Granulotto mia. Che uomo. Diamo che c'è voglia. Aspetta che devo finire un cangello. Poi diamo alla baria. Chi ha pagato? Sì, dico la cocca se sono duro. E' una madonna che è verga. Gli piace, lo viagra? E come lo si capito? Fammi spiegare che voglio fare, che meglio. Sì, ma l'una si mangia, eh? Sì, dico il po' l'altra. E questo è meale, è complicato. Non puoi capire. Mamma mia, questo non è manna per aria. Me la fai mangiare la patata con l'uco o l'altra? E sputemi allora. Ma come cazzo ci ho pensato? E ormai. M'amma mia, ero. Oh no no